Ho il piacere di essere in studio insieme a Simonetta Doni di Doni Associati Firenze che è una società che si occupa proprio di comunicazione del vino. Ecco, Simonetta, dal tuo punto di vista questo Vinitaly com'è andato? Ho visto delle facce sorridenti e questa è una cosa che fa bene al cuore anche perché insomma dopo questi periodi così bui finalmente un po' di sorrisi fanno veramente gioire e credo che questo dipenda molto dal mercato estero perché insomma c'è stata questa ripresa tangibile e quindi i produttori che esportano sono sicuramente i più avvantaggiati. Ecco, quest'anno una curiosità, avete presentato qualcosa che ci vuoi raccontare? Beh, quest'anno abbiamo avuto una soddisfazione molto piacevole perché abbiamo vinto un premio importante al concorso di packaging dell'edizione appunto di quest'anno per una serie di etichette sarebbe una collezione di sei etichette fatte per un unico vino per un grande produttore di Barolo che è Domenico Clerico che è un personaggio fantastico che merita sempre delle immagini straordinarie come effettivamente è lui. Ecco, Simonetta, come è un po' cambiata Vinitaly e quindi un po' il settore vitivinicolo diciamo nell'arco di 15-20 anni, che cosa potresti dire? Ho visto vari andamenti, quindi c'è stato il periodo come dire entusiasmante, felice dove tutti erano assolutamente sulla cresta dell'onda perché il vino praticamente si vendeva da solo per cui c'era entusiasmo, progetti nuovi e tante cose importanti che venivano fatte e realizzate subito fino a passare a periodi molto più cupi e poi siamo passati invece ad una fase dove è importantissimo trovare nuove soluzioni per risollevare assolutamente questo nostro mercato e ad uno di questi ad esempio ci siamo associati anche noi che si chiama NetWine Italy che è una rete di imprese che è stata proposta da Gelasio Gaetano Ilovatelli E ora guardiamo l'ultimo servizio con l'intervista di Gelasio che ci spiega nel dettaglio il progetto NetWine Italy Un saluto e un ringraziamento a Simonetta Doni e arrivederci alla prossima puntata Massimo, perché nasce questo network? Ma io ho trovato interessantissimo questa sollecitazione di Gelasio e questa idea intorno al quale ha messo insieme delle competenze difficilmente collegabili in questo paese e questo è stato l'input che Gelasio ha sollecitato chi fa questo mestiere come noi e per far questo servono persone che hanno una visione di questo futuro di questo mercato e la possano suggerire agli altri per mettere a frutto al meglio le proprie competenze Ecco, per dare qualche esempio concreto Tutto il lavoro ha supporto del problema della contraffazione Un grande problema che sta vivendo il cosiddetto made in Italy anche il vino Per questo noi abbiamo anche fra i nostri fornitori delle società che hanno brevettato una serie di processi contro la contraffazione e per esempio le nostre aziende hanno già sulla loro etichetta questo tag, questo microchip che permette di controllare quante ore è rimasto il vino dentro una warehouse durante il viaggio verso mercati lontani e sono anche ragazzi molto giovani sono degli ingegneri che hanno 25-30 anni Competenze, professionalità, sinergia e innovazione Questo progetto appartiene a quella famiglia di progetti chiave per questo paese o si vincono con questi progetti o veramente il destino diventa abbastanza inquietante per questo paese Grazie 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 Grazie